I Particle System rappresentano uno degli aspetti più affascinanti, seppur complessi, di 3DX Max. Con essi è possibile elaborare effetti visivi di grande impatto, elementi naturali come fuoco, acqua, gas, nuvolo e neve, pioggia, ma consentono anche la gestione di oggetti animati e non di altro genere, erba, alberi, auto, persone, palazzi e così via. Però cerchiamo di non fare confusione, procediamo con ordine. All'interno di 3DX Max esistono due grandi tipologie di Particle System. Sistemi costruiti con una logica Event Driven, quindi sistemi con eventi e reazioni, oppure sistemi non Event Driven, quindi per eventi non legati tra di loro. Per accedere ai Particle System abbiamo due semplici vie, o dal Command Panel, alla voce Geometry, troviamo Particle System. Oppure dal menu a discesa, alla voce Create, Particles, e troviamo i vari Particle System. In essi troviamo PFlow, o Particle Flow, Source, Spray, Snow, Super Spray, Blitzer, PArray e PCloud. Entrambi, seppur con logiche di sistemi diversi, hanno alcune caratteristiche comuni, quali emitter, quindi la possibilità di avere un punto sorgente dalla quale partiranno le Particles, che può essere visibile o invisibile e al tempo stesso può essere anche un'intera geometria o una sua sottoselezione. Il timing è il controllo dinamico sul sistema e specifica la velocità con la quale le Particles appaiono, non scompariono, oppure una velocità, quantità costante. E poi abbiamo quello che potrebbero definire come le Particles Specific Parameters, cioè la proprietà che riguarda la tipologia di particelle con cui stiamo lavorando. E poi quello che riguarda il rendering, quindi le Rendering Properties, ovvero come saranno visualizzate in fase di rendering che non sempre è collegata alla tipologia che abbiamo in viewport.